Ok, allora, andiamo avanti oggi a parlare di liste e di loro utilizzi, ci staremo ancora un pochino, almeno ancora per tutta questa settimana, più il laboratorio della prossima. La volta scorsa, questo è un elenco di possibili algoritmini di base, operazioni di base che ci servono un po' per ragionarci, un po' per impratichirci. La volta scorsa ci eravamo concentrati su split e join, che sono due funzioni che ci permettono di passare comodamente da una lista di stringhe a una stringa unica. Nelle slide ci sono un'altra serie di altri algoritmi che in realtà avevamo già visto prima di fare le liste per trovare il massimo, il minimo, la somma, la media di una certa serie di elementi, con la differenza che prima questi elementi dovevamo leggere uno a uno ed elaborare, adesso li abbiamo in una lista e quindi si possono elaborare i valori andandole a pescare dal singolo elemento della lista. Quindi qui ci fa vedere il massimo e il minimo, per i quali esistono anche delle funzioni predefinite, le avevamo accennate, max e min, che fanno lo stesso lavoro. Lo accenniamo all'algoritmo fatto a mano perché a volte magari ci può servire fare qualcosa di diverso e quindi personalizzare è una cosa che max da solo non fa e quindi almeno sappiamo come gestirlo. Tra l'altro avere i dati disponibili in una lista ci permette di risolvere il classico problema del massimo e del minimo, cioè come inizializzo la variabile. Per inizializzare una variabile del massimo devo prendere un valore che sia sicuramente minore o uguale al reale massimo e quando calcolo un minimo devo prendere un valore che sia sicuramente maggiore o uguale al reale minimo in modo che poi, diciamo così, analizzando i dati riesca a trovare quello che è effettivamente il massimo e effettivamente il minimo. Questo nel caso in cui i dati siano già disponibili in una lista è la cosa più semplice di questa terra perché basta prendere il primo elemento e dire ok, confrontiamo gli altri partendo dal primo che fino a quando vedo lui posso usarlo come valore iniziale. L'altra operazione che corrisponde, diciamo così, a index, troviamo il valore di un elemento, è la cosiddetta ricerca lineare dove però la funzione index ovviamente mi dà un elemento che sia identico, il cui valore sia identico a quello che ho specificato, a volte vorrei cercare un elemento invece che ha una certa caratteristica, ad esempio il primo elemento qui c'è scritto maggiore di 100, allora devo impostare dei cicli per andare a cercare i singoli elementi fino a quando non ho trovato quello che voglio. E questo è il classico ciclo che ha una condizione di uscita doppia, in cui può darsi che io cerco il primo elemento all'interno di una lista di numeri che sia maggiore di 100, il cui valore sia maggiore di 100. Allora ci sono due casi, può darsi che quel numero ci sia, io lo trovi, allora smetto di cercarlo quando l'ho trovato, oppure può darsi che non ci sia e allora smetto di cercarlo quando ho finito i numeri tra cui cercarlo, quindi ho finito la lista. Infatti qua poi si può scrivere in tanti modi diversi, qui sulla slide c'è una possibile formulazione che è un ciclo while che va avanti finché non sono arrivato alla lunghezza della lista e finché l'elemento non è stato trovato. Ho usato questa variabile logica found come flag che mi dice guarda se l'ho trovato devo comunque uscire dal while. Se invece non l'ho trovato devo andare avanti a continuare a cercarlo. Quindi vedete che quando poi ho trovato il valore maggiore di 100 semplicemente qua metto found a true che mi fa uscire dal while ed esco avendo in mano la posizione in cui ho trovato il valore. Quindi le cose che facevamo prima sui esercizi che facevamo prima sui cicli ce li troviamo tra le quali qua con una comodità in più, tutto sommato che i dati comunque sono lì, non ci ruba nessuno se vogliamo andare a vedere l'elemento precedente, l'elemento successivo, fare la scansione in avanti e la scansione l'indietro lo possiamo fare in qualunque momento. Ecco, una cosa invece che può essere problematica, qualcosa avete già visto ma vorrei un attimo approfondirlo con voi nell'esercizio di lunedì, è cancellare gli elementi di una lista. Perché fino a quando mi dici vai a vedere se c'è un elemento maggiore di 100 e dimmi dov'è, te lo faccio. Se io ti dicessi rimuovi da una lista, una lista di stringhe, no? Tutte le stringhe di lunghezza minore di 4. Ok? Allora proviamo a farlo questo come esercizio per abituarci un po' a ragionare sulla cancellazione che è sempre, o la modifica in generale, che rimuovi, chiamiamo rimuovi punto pari. In cui vogliamo rimuovere da una lista di stringhe tutte le liste di lunghezza minore di 4. Ok? Allora, immaginiamo di avere, non facciamo l'input perché può essere noioso, eccetera, ma pensiamo di avere una lista di nomi, no? Di quello che volete, abcd e poi fgh, poi magari possiamo avere jkl, poi possiamo avere mn o pq e poi possiamo, o magari solamente op e poi abbiamo qrst. Così. Ok. Quindi, se noi avessimo questa lista di nomi e volessimo rimuovere da questa lista tutte le stringhe di lunghezza minore di 4, dovremmo rimuovere fgh che è lunga 3 e op che è lunga 2. Quindi da questa lista di 5 nomi dovremmo ottenere una lista più corta di soli 3 nomi. Ok? Allora, come possiamo farlo? La prima cosa che mi viene in mente è prendo un elemento per volta, vado a vedere se lui è minore di 5, di 4 come lunghezza, lo cancello. E quindi farei for i in range length di nomi, ho bisogno di fare un ciclo sull'indice, for i in range length di nomi, controllo se la lunghezza dei nomi di i è minore di 4. Ok? Quindi qua, attenzione, distinguiamo un dettaglio tra l'end di nomi che è la lunghezza della lista, quindi quanti nomi contiene. L'end di nome di i è la lunghezza di che cosa? Di nome di i il quale a sua volta è una stringa, quindi è il numero di carattere della stringa, non confondiamo mai se un'operazione tipo la length, ma qualunque operazione la stiamo facendo sulla lista o la stiamo facendo su un elemento di una lista. Ovviamente le parentesi quadre sono quelle che ci dicono cosa stiamo facendo. Se la parentesi quadre è un elemento solo, è chiaramente il valore della lista. Se invece c'è un range, allora a sua volta è una lista su cui stiamo lavorando. Allora, cancellalo, noi sappiamo l'operazione per cancellare un elemento è pop, quindi farai nomi, punto pop di... Ops, cosa fai? No? Quindi questa sembra la cosa più logica da fare. Qui ho scritto di sbagliato. Ah. Ok? Solo che mi dà, mi dà un errore. No, quindi qua sono andato a prendere il primo elemento, nome di 0, è minore di 4? No, non fa niente. Poi la i si incrementa, prendo il secondo elemento, nome di 1, la lunghezza di nome di 1 è minore di 4? Sì, e allora eliminalo. E così via. quindi sembra giusto. In realtà quello che ottengo è un errore qua, che mi dice list index out of range. Cioè nomi di i minore di 4 out of range. Il valore di i non è valido. da un lato lo posso capire, nel senso che la mia i l'ho fatta circolare su un range di indici che corrispondono agli indici della lista iniziale. Poi man mano che vado avanti questa lista si accorcia. E quindi la i varrà, cioè leggendo la riga 5 c'è scritto la i varia tra 0 e 4, perché l'endinomi è 5. 0, 1, 2, 3, 4. Però dopo che ho cancellato FGH, dopo che ho cancellato OP, gli elementi della lista sono solamente più 0, 1, 2, perché sono solamente più 3. Quindi se il mio indice va avanti a 3 e 4, è chiaro che mi dà un errore. Quando io uso un range come condizione di ciclo, questo range viene calcolato all'inizio. Nomi cambia. La lista nomi cambia, la sua lunghezza cambia, ma non viene ricalcolato ogni volta. Ho creato un contenitore che è un range, questo contenitore ha 5 elementi, ok, lui me le prende uno per volta, non va a ricalcolare il contenitore ogni volta. Quindi questo è un primo problema. Allora, se questo è un problema, possiamo decidere di non usare range, visto che il mio for basato su un indice e un range va bene quando io so esattamente quante iterazioni farò, quanti giri devo fare. Io qua non lo posso sapere a priori, perché non so quanti elementi dovrò cancellare. Allora, anziché usare l'automatismo del for che mi gestisce lui l'indice, mi utilizzisco a mano, così mi fermo quando voglio. ci proviamo dopo. Lui dice se possiamo iterare al contrario. La risposta è no, ma la vediamo dopo. Cioè non basta. Allora, proviamo a farlo a mano, ok? Farlo a mano significa che usiamo un while. Quindi dimentichiamo un attimo questa cosa qua, proviamo a scrivere while i minore di len di nomi. Due punti, ovviamente a parte, devo poi gestirmi l'indice a mano, quindi a parte di i uguale a 0, cancelliamo questo e incremento i uguale a più 1. Quindi qui sono sicuro, è un while, quindi ogni volta la condizione del while viene ricalcolata. E quindi se la lunghezza di nomi si accorcia man mano che vado avanti, bene, io ogni volta vado a ricontrollare che io sia minore della lunghezza. infatti questo dovrebbe funzionare. Ok? Quindi non mi dà più quel problema, ricordiamoci for range va bene se io sono certo all'inizio dell'iterazione di quante iterazioni farò. poi ho detto da parola sbagliata, ho detto funziona perché in realtà avrei dovuto dire sembra funzionare. Perché in realtà questo ha un problema. Questo algoritmo in realtà non funziona. E ve lo faccio vedere se io aggiungo un altro nome qua in mezzo da cancellare. e se faccio run non me l'ha cancellato. Cioè alcuni me l'ha cancellati e altri no. perchè non mi ha cancellato xx. E se guardo quel codice sembra talmente chiaro, talmente semplice. ecco devo fare attenzione all'effetto collaterale di nomi, di pop. Poi mi cancella l'elemento, però quella è solo metà del lavoro che fa. E sposta indietro di una posizione tutti gli altri elementi. Quindi se io vado avanti, proviamo a guardare questa passo passo in modalità debug. Una volta per tutte, dopo di che vi do l'undicesimo comandamento. sulle liste. Allora, qui abbiamo, siamo fermi qua, i uguale 0, nomi, contiene quegli elementi lì. Ok? Vado avanti, riduco un pochino lo zoom, se no non ci capiamo, non riusciamo a vedere ciò che ci serve. Tanto il codice è quello lì, non lo stiamo modificando. Vado avanti, con i uguale 0, nomi di i, chiaramente è abcde, è lungo, e quindi la condizione if non è attivata, vado semplicemente all'interazione successiva con i uguale 1. I uguale 1 è un elemento da cancellare, infatti nomi di i, nomi di 1 vale fgh e la sua lunghezza è minore di 4, e quindi entro dentro l'if, entro dentro l'if, cancella dalla lista fgh, cancellerà, quando ci clicco sopra, dalla lista fgh. Quindi poi possiamo vederla qua espansa alla lista. Se io eseggo la pop, quindi vado avanti in un passo, la lista è stata modificata. era lunga 6, sai perché c'è giunto la x, è diventata lunga 5, adesso c'è abcde, xx, eccetera, eccetera. L'xx un attimo fa era alla posizione 2, adesso è alla posizione 1. Perché? Perché chi c'era prima alla posizione 1 l'ho cancellato. Poi incremento la i, i vale 1, la incremento vale 2. E quindi andrò a controllare nomi di 2. Nomi di 2 non è più xx, ma è diventato jklm, perché ho tolto un elemento di mezzo. E quindi xx non lo controllo mai. Perché quando io è uguale a 1, lui era in posizione 2, e quindi non lo guardavo ancora. Poi, quando io è uguale a 2, dopo che ho cancellato chi prima era in posizione 1, xx è andato in posizione 1, e quindi di fatto non l'ho mai controllato. Allora, se, come verrà prima, non l'ho controllato ma non era da cancellare, bene, non mi accorgo di niente. Ma se non l'ho controllato e in realtà era da cancellare, l'ho perso. Quando abbiamo scritto questo codice abbiamo pensato agli indici della lista così come erano nella versione originaria, non modificata. poi però stiamo usando la i per iterare in una lista, ma la lista allo stesso tempo sta cambiando. E quindi non stiamo più iterando su tutti gli elementi della lista, stiamo iterando su degli indici ma gli elementi nel frattempo si sono spostati. Allora, come si può fare a ovviare questo problema? Beh, un modo è quello di, a questo punto dire, vabbè, ma allora vuol dire che se cancello un elemento non devo incrementare la i. Quindi metterci un else e incrementare solo, quindi ad ogni operazione io faccio due cose. o il numero non è da cancellare, quindi incremento l'indice, vado all'indice successivo, o il numero è da cancellare, e allora cancello l'elemento e quindi non devo più incrementare l'indice perché in realtà i numeri che sono venuti verso l'indice non è l'indice che deve andare avanti sui numeri. E questo funziona. Funziona nel senso che effettivamente rimuove tutti i dati perché non capita qui quel problema. Ti ho incrementato da uno o due quando ho cancellato l'elemento. Quindi se cancello l'elemento i rimane fermo, i dati si spostano, quindi alla prossima iterazione con lo stesso i vedrò un dato nuovo. Tra l'altro attenzione che questo qua mi mette un pochino disagio perché io ho una variabile controllo del ciclo che è i che non incremento sempre. Allora dentro di me c'è una vocina che dice non è che stai rischiando di creare un ciclo infinito? Perché ci sono dei casi in cui non incrementi i e se per caso questo caso qua si ripete tu rimarrai sempre lì senza incrementare i. Ecco in realtà no perché ci sono due cose che cambiano, i e la lunghezza dei nomi. Quindi io ad ogni iterazione o accorcio i nomi o incremento i. Una delle due cambia sempre, no? Quindi una parte da zero, la lunghezza dei nomi parte da 6, 7, 10, 100 e ad ogni iterazione o si incrementa i o si decrementa la lunghezza. Per quello che ho scritto lì. Quindi prima o poi si vanno a incontrare i due valori, non a metà strada. Quindi non c'è il rischio che entri in un loop in cui non cambia nessun valore di controllo del ciclo e quindi questo ciclo va avanti all'infinito. Questa è una possibilità, si può fare così. A me non piace tantissimo, che poi trarrò il codice che ci sta sulle slide, no? Però per apprezzare perché serve a quell'ELS dobbiamo prima esserci scontrati col fatto che non funziona nel modo più semplice. Non è tanto bello da vedere questo ELS qua, no? Perché, vabbè, in questo caso abbiamo un ciclo di due istruzioni, ma se fosse una cosa più complicata capire le logiche con cui... Se qui cancello un elemento, ma se dovessi cancellare un numero variabile di elementi o se dovessi inserire degli elementi nel mezzo, questo indice diventa un pochino ballerino. Un altro modo di risolvere la stessa cosa era quello che suggeriva il vostro compagno di andare all'indietro nel ciclo. Cioè, anziché partire da zero e arrivare fino alla lunghezza, parto dalla lunghezza, meno uno, e torno indietro fino a zero. Ok, vediamo se questo può funzionare. Perché dovrebbe funzionare, anzi, scusatemi prima. Perché se io parto dall'ultimo elemento, il mio problema finora qual era? Che quando cancellavo uno e mezzo nel mezzo, quelli dopo si spostavano. E quelli dopo io dovevo ancora guardarli, dovevo ancora controllarli. Se parto dal fondo dico, ok, l'ultimo, l'ultimo devo cancellarlo o no? Ok. Se non lo devo cancellare rimane lì, torno al penultimo. Se devo cancellare il penultimo, lo cancellerò e ovviamente quelli che seguono verranno spostati indietro. Ma quelli che seguono, comunque, sono già numeri che ho già controllato e so che non devo più cancellare. Quindi mi sta bene non ricontrollarli. Ok? Quindi faccio... Come si fa a fare un ciclo all'indietro usando un for? For i, in range, mettiamo un range al contrario, che parte dal numero più alto. Il valore iniziale è il valore più alto. Qual è il valore più alto? La lunghezza della string, della lista, meno uno. Arriva al valore più basso escluso. Il valore più basso. Un range è sempre il primo elemento compreso e l'ultimo elemento escluso. E quindi se sto decrementando parto da, se la stringa è lunga, la lista è lunga cinque elementi, come questa nostra con la x dentro, sei elementi, scusate, io devo partire dall'indice cinque, sei meno uno, e arrivare fino all'indice zero compreso e quindi meno uno escluso. Con passo meno uno. Devo usare il terzo argomento della funzione range che indica il passo di, perché altrimenti risommerebbe uno ogni volta, invece deve sottrarre uno ogni volta. Quindi questo è un modo per, giusto per essere sicuri cosa stiamo facendo, stiamo iterando con un indice che va così, cinque, quattro, tre, due, uno. Ok? Che sono gli indici della lista. È un po' strano da scrivere perché ci sono tutti questi meno uno che rompono le scatole. È molto più pulito un range che va in avanti. Perché la regola del primo incluso, l'ultimo escluso, se vado avanti è la stessa regola dell'indice dell'array. Se vado indietro invece sto nuotando quanto corrente e quindi devo rimarrere di più. E quindi posso vedere se funziona la versione if len di nomi di i, minore di quattro, nomi di i, punto pop di i. Nomi, scusate, nomi, punto pop di i. Vediamo se funziona, questa è la versione prima che avevamo scritto che andando in avanti non funzionava, indietro invece funziona. In questo caso specifico. Perché funziona andando indietro? Perché io quando devo cancellare questo, allora parte da i uguale 5. Lo cancella? No. Decremento. Io uguale 4. Devo cancellarlo? Sì. Pop di 4. Faccio pop di 4 e quindi quello che prima era in posizione 5 viene in posizione 4. Va bene. Il 4 è scomparso. Poi decremento e vado in posizione 3. Non ho perso nulla, non ho perso nessun elemento, non ho saltato un elemento. L'indice da 4, faccio pop, l'indice decrementa a 3, arrivo qua, ma gli elementi 3, 2, 1, 0 non li ho ancora né toccati né spostati. Quindi in questo caso funziona anche così, questo funziona correttamente facendo questa attenzione. Sono casi, posso chiamarli fragili, no? Nel senso che se anziché, come dicevamo, anziché cancellare un elemento, devo cancellarne due. Oppure ho altre condizioni ulteriori che decidono se devo cancellarlo o no. Oppure a volte devo cancellarlo e a volte devo inserirlo. Immaginate se ti dicessero, adesso, ogni volta che c'è una stringa più corta di 4 ne aggiungi una, no? Aggiungi un asterisco, una stringa nuova come asterisco. Allora lì si allunga la lista, quindi come faccio? Anche andando indietro non vale più, no? Quindi si può trovare la soluzione ad hoc, caso per caso, in cui uno riesca a fare queste cosette qua. Ma molto spesso ci conviene, e il mio suggerimento, evitare questo problema. Qual è il problema, Monte? Il problema è che sto modificando una lista mentre sto iterando sulla stessa lista, sulla lista stessa. Ho detto sto modificando una lista, non ho detto sto modificando gli elementi di una lista. Modificare gli elementi della lista non è un problema. Cioè, se un numero 3 fa diventare 4, se ogni stringa tolgo gli spazi, li aggiungo, va bene. Il numero di elementi è sempre lo stesso, la loro posizione è sempre la stessa. Se ne modifico il valore, la lista in quanto tale non ne soffre. Ma se sto modificando la lista e modificando la lista significa aggiungere o togliere elementi. E su questa lista sto iterando, sembra un po' la vignetta del tizio che sta segando un ramo su cui è seduto. A seconda di dove è seduto, quando il ramo cade, magari cade anche lui. Dipende, no? Dove è seduto e quali altri appigli ha. E qui è la stessa cosa. Quindi mettiamoci, impostiamo un campanello d'allarme in mente che dice, sto iterando su una lista? Ok, dentro il ciclo quella lista non si tocca. Non si può modificare. Non vogliamo modificarla e così evitiamo ogni problema. In questo caso funziona, va bene. Però è un caso in cui abbiamo dovuto pensare dieci minuti per una cosa che era di una banalità assurda. E ogni volta dobbiamo pensare diversamente andando a vedersi questo indice facendo un po' di debatto per essere sicuri che funzioni. Dove sicuri, su questo caso qua riesco ad esserlo, su cose più complicate è un pochino più impegnativo. Allora, quindi la regola che mi do, quindi l'undicesimo comandamento, i primi dieci non tocco, non sono miei, sulle liste non si modifica la lista su cui si itala. Che non è vietato, abbiamo visto in due modi per farlo funzionare. Però sono modi che mi richiedono una gestione non convenzionale dell'indice, della variabile di controllo del ciclo e ad hoc che funziona in questo esempio e non funziona magari in altri. Allora, per attenzione, non è che l'undicesimo comandamento va in conflitto con la specifica dell'esercizio. Mi ha detto di fare questo e tu mi dici di non modificarle, che faccio? Eh, no, faccio in un modo diverso. Cambio il modo di lavorare e dico ok, anziché cercare di modificare la lista stessa su cui sto iterando, lavoro con una lista diversa. Una su cui itero e una che modifico. In questo caso la soluzione classica è quella di dire ok, prendo un'altra lista, nomi due, e anziché cancellare da nomi ciò che non va bene, travaso in nomi due ciò che va bene. Quindi prendo gli elementi dei nomi, for, i, in, range, length, i nomi, if, qui tutto uguale, nomi di i, la lunghezza, è migliore di 4, non faccio niente. Se invece è maggiore o uguale a 4, quindi lo posso scrivere, maggiore o uguale a 4, nomi due appende nomi di i. E stamperò nomi due anziché nomi, fatemi commentare quell'altro. Quindi io qua sto modificando una lista dentro un ciclo, sì, sto modificando la lista nomi due, aggiungendoci roba dentro. Sto iterando su una lista, sì, ma la lista su cui sto iterando è diversa da quella che sto modificando. Quindi ragione al contrario, anziché prendo una lista e cancello, prendo una lista nuova e la costruisco mettendosi dentro solo che ciò che serve. E quindi vabbè, questo non può avere problemi. Addirittura io potrei anche non usare un ciclo for range, ma a questo punto un ciclo sui valori della lista, perché l'indice i di fatto non lo sto usando. Non mi serve più. Prima mi serviva, però me lo dovevo gestire a mano, invece qua potrei fare un ciclo sui valori. Ma non voglio modificarlo troppo rispetto agli altri, perché così abbiamo il confronto diretto. Ok? Quindi questo schema è molto più frequente dell'altro. È un pelino più pesante, non ti dici, ma è una seconda lista quando me ne bastava una. E vabbè, pazienza. Non mi sembra che nel listino prestici sia quanto costa una lista. Gli elementi sono gli stessi. Poi, se non mi serve più la prima lista, la butterò via, posso a questo punto, dopo che ho fatto questo, posso fare nomi uguale a nomi 2 e mi ritrovo gli elementi cancellati, ripuliti, dimagriti all'interno della lista nomi, come prima. Se vogliamo avere la stessa parità, diciamo, di funzionalità, quella variabile nomi 2 è una variabile temporanea, mi è servita per un tirato periodo e poi non mi serve più. Ok? Quindi la conseguenza dell'unicesimo comandamento è che quando devo fare operazioni di questo genere mi conviene sempre pensare di costruire una lista nuova e lavorare sul pulito, no? Non mescolare l'interazione con la modifica. Questo, in Python, ha anche una sintassi speciale. Questo è un modo di lavorare così frequente che gli hanno dato una sintassi semplificata. Cioè noi abbiamo qui una lista che stiamo costruendo partendo da nulla iterando su un'altra lista e facendogli cose. E dentro alla fine abbiamo un append. Ok? Allora, questa sintassi ha un nome stranissimo adesso la vado a prendere nelle slide così abbiamo gli esempi scritti. Dov'era? E' più avanti ma eccola qua, la prendiamo adesso. Che prende il nome di comprehension che è la parola un po' strana, di che c'entra, no? Che mi semplifica la creazione di una lista a partire da una lista esistente. Oh, non fa nulla di più del ciclo for che abbiamo appena visto, eh? però non c'è che scrivere in cinque righe e non fare che scrivere in una riga sola. Quindi quando dobbiamo fare queste operazioni a ripetizione risulta comodo. Guardiamo qua. Qui c'è un esempio in cui ho una lista con i numeri della settimana, con i giorni della settimana e voglio costruire un'altra lista quindi questa è una prima lista di stringhe voglio costruire un'altra lista di numeri che corrispondono alla lunghezza dei giorni della settimana. Quindi lunedì sarà sei lettere quindi ci sarà in questa lista sei, martedì sono sette se non conto male, mercoledì è di più, eccetera, eccetera. Quindi sarà una lista di numeri perché ci servono queste lunghezze dei nomi dei giorni della settimana. E quindi lo faccio così. Creo una nuova lista vuota e aggiungo i singoli elementi di questa lista andando a lavorare a costruire questi nuovi valori sui valori di una lista precedente. Voglio un'altra cosa sono i giorni della settimana e le voglio scrivere al contrario lunedì lo scrivo vedete qua ide null e beh allora io so come costruire il singolo elemento prendo una stringa e prendo uno slice totale che va all'indietro questo è un modo per invertire una stringa e creo una nuova lista che iterando sulla lista giorni questa qui crea una nuova lista a cui appendo via via le stringhe invertite. Quindi io su questa lista iniziale ho fatto cose ma non l'ho mai toccata l'ho usata l'ho letta l'ho consultata l'ho iterato sopra ma non la tocco. Creo nuove liste e le creo quasi sempre con questo schema vuota for appende vuota for appende Allora questo schema creare lista vuota in un ciclo for fai append si semplifica con una operazione di comprehension che è uno dei significati arcaici della parola comprehension e l'inclusion ti dico cos'è incluso cos'è compreso quindi non c'entra comprehension come understanding ma più come essere compreso ti dico quali sono gli elementi che devono essere compresi e quindi scriverò ad esempio al posto di lunghezza questo era il primo esempio la lunghezza le lunghezze delle stringhe contenute posso scrivere aperta quadra l'endigiorno for giorno in giorni chiusa quadra è una descrizione simile a quella che abbiamo in matematica sugli insiemi per ogni x che appartiene a restituisci mi x quadro e qui la stessa cosa per ogni giorno che appartiene a giorni e qui c'è l'iterazione sulla lista giorni di partenza che guarda caso queste parole qua sono identiche a queste qui restituisci mi che cosa x x al quadrato valore assoluto di x lunghezza di giorno c'è un valore calcolato a partire da questo che guarda caso questo valore che va a finire dentro la nuova lista altro non è che l'elemento che avrai appeso aggiunto con l'appende ok quindi e questa espressione qua la metto tra parentesi quadre per dire costruisci una lista fatta con questa regola mettendoci dentro gli elementi ottenuti iterando su un'altra lista e facendo cose sull'altra lista sugli elementi sui singoli elementi dell'altra lista trasformandoli in qualche modo nel primo caso trasformando prende li trasforma prendendo la lunghezza nel secondo caso li trasforma scrivendoli al contrario quindi le parentesi quadre indicano voglio costruire una lista esplicita dentro la lista ci metto un'iterazione che va a pescare degli elementi da un'altra lista e un calcolo un'espressione che mi dice perché sei tornato indietro che mi dice cosa devo fare qual è il valore nuovo che devo inserire nella mia lista poi di questo esiste una variante in cui oltre a for in c'è anche un if perché nel caso precedente io costruisco una nuova lista che avrà sempre esattamente lo stesso numero di elementi di quella di partenza iter su una lista di partenza per ogni valore della lista di partenza ne crea uno nuovo da aggiungere trasformato calcolato eccetera ma magari non li voglio aggiungere tutti noi nel nostro esempio volevamo aggiungere solo quelli la cui lunghezza era maggiore o uguale a 4 allora è possibile aggiungere nella stessa sintassi una clausola if che dice solo se le aggiungi solo se vale una certa condizione sull'elemento allora nel nostro esempio questo calza pennello perché potremmo scrivere che i nomi calcolati rimanenti sono la lista di tutti i nomi di tutte le stringhe nella lista di partenza questa scrittura qui al di là di essere sembra balbuziente nomi uguale nome for nomi in nomi crea una copia della lista è un altro modo scomodo per creare una copia di una lista aperta quadra crea una nuova lista nuova non modifico niente di esistente questa nuova lista è fatta esattamente vado a prendere uno per uno i valori di una lista esistente e questo è il valore che metto dentro la nuova lista che sto creando x for x che sta in è semplicemente una copia del valore se no li potrei modificare potrei dire nome più un asterisco in fondo o qualcosa del genere qui posso mettere una qualunque espressione che coinvolga il singolo elemento quindi lo posso copiare tale e quale oppure modificarlo modificarlo e calcolo un valore in questo caso a noi interessa solamente copiarli ma non copiarli tutti e allora aggiungiamo la condizione if len di nome maggiore o uguale a 4 e ovviamente mi ha questi quindi questo algoritmo si riduce usando questa sintassi delle comprehension che di fatto è un ciclo for collassato un ciclo for il cui unico scopo è creare una lista nuova a partire da una lista esistente allora mi lascia sottinteso la creazione della lista vuota mi lascia sottinteso l'append e mi lascia mi fa scrivere solamente le cose che in questo blocco di codice cambiano di volta in volta cioè su cosa sto iterando la lista nomi e che valore voglio dare ed eventualmente quali condizioni devo applicare non cambia nulla è la stessa cosa la stessa operazione semplicemente anziché 4 righe ne scrivo una e soprattutto è più è chiaro se uno non si complica la vita con espressioni troppo complicate è chiaro cosa sto cercando di fare qua io poi in questo caso questa nuova lista l'ho salvata sempre nella stessa variabile nomi uguali cioè non mi sono neanche non ho avuto bisogno di creare un'altra variabile d'appoggio che poi in realtà non mi serviva quindi abbiamo imparato due cose uno è per certe per molte operazioni sulle liste soprattutto quando devo modificare gli elementi conviene sempre ragionare nell'ottica di creare qualcosa di nuovo anziché modificare qualcosa di esistente e questo un pochino è diverso da quello a cui potreste essere abituati su altri linguaggi creare una nuova lista è un'operazione che non costa ok tutto sommato e quindi non dobbiamo cercare di evitarla costa di più sbagliare l'algoritmo perché è modificato malamente una certa cosa o sta iterando malamente su una certa cosa e la seconda cosa è che quando devo semplicemente costruire una nuova lista a partire da un esistente c'è una sintassi più comoda per farlo se non mi dimentico questa sintassi non capita niente userò il ciclo for il ciclo while non c'è nulla di male l'importante è capire cosa sto facendo ok poi vabbè le slide vanno in dettaglio su foranidati all'interno delle comprension ma non non mi di lungo solo per dirvi qui stiamo parlando di cose che non abbiamo ancora visto visto ma questo stesso modo di lavorare funziona non solo sulle liste ma anche su altre strutture dati che vedremo poi verso la fine del corso semplicemente anziché mettere le parentesi quadre si mettono le parentesi di tono le parentesi di grafe perché sono gli indicatori di quelle altre strutture dati ma questo lo vedremo più avanti quando vedremo quelle strutture dati non è il concetto rimane lo stesso l'altra cosa dove siamo eravamo qua eravamo partiti con una digressione da dire come faccio cancellare un elemento facile uso pop come faccio cancellare degli elementi da una lista e attenzione una soluzione può essere questa ma non è quella che diciamo così su cui consiglio di costruire poi in generale gli algoritmi un'altra operazione di nuovo che introduciamo per raccontarvi anche una scorciatoia con cui scriverla è lo scambio di elementi cioè immagina che tu abbia due elementi e vuoi scambiarli di posto all'interno della tua lista allora per qualche motivo tu vuoi scambiare l'elemento di indice 1 con l'elemento di indice 3 di questa lista values quindi il 54 non ti piace dove hai messo qua vuoi mettere l'opposto del 29 e il 29 devi mettere l'opposto del 54 allora ovviamente io dovrò scrivere values di 1 uguale a values di 3 quindi prendo values di 3 che è il 29 e lo metto in una posizione 1 e poi dovrò scrivere values di 3 uguale a values di 1 perché devo prendere values di 3 cioè il 54 e metterlo dentro values di 3 che è la quarta posizione il problema è che non posso scrivere queste due istruzioni values di 3 uguale a values di 1 a capo values di 1 uguale a values di 3 perché nel momento in cui eseguo la prima istruzione l'altro valore l'ho perso perché c'è scritto sopra e neanche se le scambio di posto chiaramente allora normalmente quello che si fa che si deve fare è di passare da una variabile intermedia quindi mi salvo il 54 da qualche parte prendo il 29 lo metto dove c'era il 54 e qui se non me lo fossi salvato avrei perso il 54 e poi a questo punto vado a prendere il 54 lo metto al posto di dove ci stava prima il 29 che adesso non mi serve più perché ormai l'ho spostato e quindi una terza istruzione quindi scambiare due valori si porta dietro uno scambio attraverso una variabile temporanea estraggo un valore i copio il j dentro i e poi metto il valore che mi ho salvato dentro la posizione j e questo in tutti i linguaggi di programmazione funziona così in python c'è una scorciatoia che ci permette invece di assegnare più valori contemporaneamente poi tecnicamente usa un meccanismo di tupla che vedremo più tardi ma io posso assegnare a uguale a 3 e b uguale a 4 in un'unica istruzione scrivendo ab uguale 3 e 4 con la virgola quindi io sulla destra dell'uguale costruisco un elenco di valori separati da virgola non è una lista questa sono dei valori separati da virgola e sulla sinistra dell'uguale metto delle variabili separate da virgola in cui i valori uno per uno dovranno andare a finire tecnicamente si dice che sulla destra dell'uguale costruisco una tupla e sulla sinistra destrutturo questa tupla in variabili ma non andiamo a impelagarci nelle definizioni tecniche ho più variabili sulla sinistra separate da virgola che ricevono più valori sulla destra chiaramente non essere il numero uguale sempre separato da virgola questo vale quindi se voglio scambiare i valori di a e b posso scrivere a uguale b uguale b uguale a uguale b uguale a virgola b uguale b virgola a dove queste due operazioni non viene fatto qui ho scritto è equivalente a non è vero che sia equivalente a perché se lo scrivo a uguale a 3 e poi b uguale a 4 sto implicando che faccio prima a uguale a 3 e poi b uguale a 4 non è proprio equivalente ciò che viene fatto è che prendo il 3 e il 4 i due valori 3 e 4 li metto da parte e poi li assegno le due variabili assegno i due valori a due variabili e qui anche prendo il valore di b me lo tengo nella mano sinistra il valore di a me lo tengo nella mano destra e poi gli assegno le variabili quindi il primo che metto nella variabile a viene preso dalla mia mano sinistra che era b prima e il secondo elemento che devo mettere nella variabile b lo prendo dalla mano destra che guarda caso era il valore di a prima quindi ho assegnato ad a e b due valori che erano i valori di b ed a cambiati tra di loro prima vado a leggere i valori vecchi di a e b e poi questi valori li memorizzo in due variabili che guarda caso sono di nuovo a e b questo è il trucco perché io non vado a fare così in cui vado a leggere la variabile temp e poi l'assegno e quindi leggo una variabile l'assegno leggo una variabile l'assegno no leggo prima i valori calcolo le espressioni e poi li assegno dopo le variabili e quindi in qualche modo non voglio dire li assegno in parallelo perché non è vero ma assegno dei valori che sono già stati calcolati prima quindi prima calcolo tutti i valori questa è la regola generale dell'assegnazione prima guardo a destra e calcolo i valori dopo prendo questi valori e li metto nelle variabili quando ho i valori calcolati a destra nell'uguale non mi importa più come li abbia calcolati o come si chiamavano le variabili da cui provenivano sono valori che vivono in un mondo separato dalle variabili e questo vale anche per le liste quindi nel caso in cui a e b non siano due variabili sfuse spicciole ma siano due elementi di una lista tipo l'elemento i e l'elemento j posso usare la stessa sintassi dimmi in questo caso vado a non modificare la lista originale ma vado a modificare gli elementi della lista originale la lista values cerco di farvelo vedere e so che sono finezze ma ci servono per poter arrivare alle funzioni provo a farvelo vedere col python tutor se io ho values uguale 10 20 30 40 50 e voglio scambiare tra di loro il values di 1 con values di 3 faccio così uguale values di 3 virgola values di 1 ok quindi ciò che faccio qua è vabbè creo la lista vediamo siamo abituati a vederla la lista è il rettangolo giallo i valori sono questi qui fare questa espressione questa eseguire questa espressione ha scambiato tra di loro torno indietro avevo l'1 che puntava 20 il 2 che punta 30 il 3 che punta 40 se vado avanti ho l'1 che punta 40 il 3 che punta 20 e il 2 in mezzo non è cambiato ciò che è stato modificato non è né la variabile values che continua a puntare a questo rettangolo giallo né il rettangolo giallo in sé ma semplicemente le frecce a cui puntano gli elementi della lista quindi ho modificato alcuni valori all'interno di una lista senza modificare quando diciamo modifico la lista devo sempre fare attenzione a cosa sto dicendo modifico i valori contenuti o modifico la lista in quanto tale cioè la costruisco la distruggo l'allungo l'accorcio queste sono le operazioni che posso fare su una lista aggiungo un elemento cancellare un elemento ordinare la lista invece aggiornare un valore è aggiornare il valore non è aggiornare la lista ok? un conto è costruire una nuova stanza a casa tua un conto è dire che in quella stanza adesso viene abitare un tuo amico un tuo conquilino no? ma la lista rimane l'altra operazione che va bene è abbastanza intuitiva però citiamola che avviene sul confronto delle liste noi abbiamo già visto cosa vuol dire se due liste sono uguali no? l'abbiamo già citato una volta scorsa due liste a e b si considerano uguali se hanno la stessa lunghezza hanno i stessi elementi hanno la stessa ordine fine gli elementi sono uguali tutti gli elementi a due a due sono uguali se almeno uno di questi elementi non è uguale allora le liste si considerano diverse così come se ovviamente una lista è più corta o più lunga dell'altra è possibile però usare l'operatore di confronto anche gli altri operatori di confronto maggiore, minore maggiore, uguale maggiore, uguale tra due liste non solo tra gli elementi delle liste ovviamente gli elementi sono numeri o sono stringhe ma tra due liste allora come funziona? beh innanzitutto ricordiamoci che tutti i confronti tra liste alla fine si riconducono a confronti tra gli elementi delle liste e questi devono essere confrontabili quindi o tutti interi o tutte stringhe devo poter confrontare un intero con un intero e una stringa con una stringa altrimenti abbiamo già scoperto che il maggiore il minore o l'uguale ci dicono non posso confrontare cose di questo genere detto questo che i tipi di dati devono essere compatibili quindi ho tutti i numeri e tutte stringhe come funziona ad esempio il confronto tra una lista A e una lista B? diciamo possiamo riassumerlo in una frase da sinistra verso destra cioè lui confronta prima i primi elementi ho due liste mi chiedo la prima lista è minore della seconda cosa può voler dire per una lista essere minore di una seconda? ho tanti valori in una tanti valori nell'altra che concetto gli do di maggiore o minore? noi siamo abituati pensate alla geometria euclidea se una coppia di numeri che sono delle coordinate x y non esiste il concetto di maggiore o minore il punto 1 3 è maggiore o minore del punto 3 7 non esiste questo concetto ok? così con i numeri complessi qui è stato per comodità nostra è stato imposto un concetto che è quello di priorità di confronto se io ho due liste vado a confrontare tra di loro il primo elemento della prima lista col primo elemento della seconda lista e ci sono tre case o questi due elementi sono il primo è minore del secondo allora dirò che la prima lista è minore del secondo quindi nel caso che fossero le coordinate vuol dire che la x prevale sulla y se la x è maggiore allora non guardo neanche la y se la x è minore non guardo neanche la y in qualche modo i punti li ordinerei sulla base della prima coordinata, se il primo elemento della prima lista è minore del primo elemento della seconda lista allora dirò che la prima lista è minore, se il primo elemento della prima lista è maggiore del primo elemento della seconda lista dirò che la seconda lista è maggiore. Solo se il primo elemento della prima lista e il primo elemento della seconda lista, quindi a di u, a di zero e b di zero sono uguali, solo in quel caso allora vado a vedere i secondi elementi e ripeto il giochino quindi solo se A di 0 è uguale a B di 0 vado a vedere A di 1 e B di 1 e se A di 1 è più piccolo di B di 1 dirò che A è più piccola se A di 1 è più grande di B di 1 dirò che B è più piccola cioè A è più grande solo se anche A di 1 e B di 1 sono uguali vado a vedere A di 2 e B di 2 e così via quindi praticamente parto dall'inizio delle due liste vado avanti fino a quando trovo identità di elementi e continuo ad andare avanti la prima volta che trovo una differenza mi fermo e sulla base del verso di questa differenza decido quale delle due liste viene prima o viene dopo e da lì in poi non guardo più che se ci pensiamo è lo stesso algoritmo che usiamo con due stringhe se le due parole devi mettere in ordine alfabetico fai così parti dalla prima lettera e vai avanti la prima differenza ti fermi e hai deciso quale delle due deve venire prima dell'altra questo sulle liste generalizza il concetto di ordinamento alfabetico di una lì che poi abbiamo chiamato l'essicografico delle stringhe a tipi di dati qualsiasi di tipo lista quindi può tornare comodo se ci serve questo tipo di confronto sappiamo che basta scrivere lista 1 minore di lista 2 if lista 1 minore di lista 2 e lui dentro fa questo lavoro non dobbiamo farcelo noi con un ciclo esplicitamente come in altri linguaggi c'è un caso in cui una lista finisca prima dell'altra e allora la lista che finisce prima viene sempre considerata minore non è anche un pezzo è più corta e quindi è minore corollario la lista vuota è minore di qualunque lista altra lista quindi qua ci sono alcuni esempi in cui faccio vedere non ve le faccio vedere le soluzioni le vediamo insieme 5, 4, 9 5, 4, 9 è vero che sono minori? no perché sono uguali allora l'algoritmo in questo caso cosa farebbe? confronto a 5 con 5 sono uguali e vado avanti confronto a 4 con 4 sono uguali e vado avanti confronto a 9 con 9 sono uguali e vado avanti ho finito la lista e quindi non posso dire non posso dire che la prima è minore anzi ho scoperto che sono uguali intanto capiamo che controllare se le lista sono uguali è più difficile che controllare se sono minori o maggiori perché devo comunque andare sempre fino in fondo no non è vero scusate potrei trovare la differenza subito poi 5, 4, 9 6, 4, 9 ah qui è veloce perché controllo il 5 con 6 mi accorgo subito che è minore e gli altri elementi non li guardo nemmeno anche se fossero una più lunga l'altra più corta mi fermo qua la prima è minore la seconda vero, sì true terzo esempio 5, 4, 9 è minore di 6 sì per la stessa ragione di quella di prima visto che il 5 è minore di 6 non mi importa cosa c'è dopo anche se non c'è nulla dopo 5, 4, 9 è minore di 5, 4 allora 5 è uguale a 5 ok vado avanti 4 è uguale a 4 ok vado avanti ma questa è finita e quest'altra no quindi quella più piccola è questa e quindi questa disgradianza sarà falsa falso perché i primi due elementi sono uguali ma una delle due più breve quella più breve viene considerata minore stessa cosa vale qua sotto dove invece quella sulla destra è più lunga cioè 5, 4, 9 sono uguali poi quella di sinistra finisce quella di destra va avanti e quindi quella di sinistra è considerata minore quest'ultima non so perché l'ho messa perché è un caso banale perché 5 è uguale 4 è uguale e il 9 è minore di 19 e allora vabbè chiaramente la prima è minore della seconda non è diversa da questo caso qui cioè trovo a un certo punto un elemento il cui valore è minore o maggiore e mi fermo lì qua l'avevo trovato come primo elemento sono stato fortunato qui devo andare avanti fino al terzo e vabbè ma la regola è la stessa e l'ultima non ha senso e Python ce lo dice più o meno gentilmente dicendo che non è possibile controllare se sia minore o maggiore un intero rispetto a una stringa perché lui prova a confrontare 5 con A e non dice né vero né falso ma dice errore quindi non dobbiamo farlo ok quindi questo un pochino di attenzioni nelle liste abbiamo un po' completato quali sono le operazioni di base l'altro argomento che volevo aprire è questo noi abbiamo visto le liste nelle ultime tre lezioni abbiamo visto le funzioni lunedì scorso questi due come si mettono insieme funzionano insieme e che è anche diciamo così il motivo per cui la settimana scorsa vi ho rotto le scatole con tutti quegli esercizi sugli alias sulle copie eccetera allora la risposta diretta è semplice sì si possono usare le liste sia come argomenti di funzioni sia come valore di ritorno di funzioni non c'è problema tanto forse abbiamo già in mente che la funzione ritornerà una freccia una freccia è un valore che esiste indipendentemente dalla funzione quindi che questo valore sia un numero che questo valore sia una lista alla funzione al meccanismo di chiamata delle funzioni non dovrebbe fare quasi differenza e infatti è così quindi io voglio creare una funzione che mi calcolo in questo caso la somma dei quadrati dei valori contenuti in una lista ok la somma dei quadrati è un ciclo for in cui prendo un elemento per volta ne faccio il quadrato e ne accumulo il valore in una variabile la quale poi sarà il valore finale di questa variabile sarà il risultato finale quindi questa varia bella totale che restituisco al mio chiamante e la calcolo accumulando i quadrati insomma mando tra di loro i quadrati degli elementi contenuti in una lista va bene questo codice qua queste tre righe qua mi calcolano questo valore anziché mettere direttamente nel programma le ho messe dentro una funzione allora vediamo come funziona questa cosa usiamo pure il python tutor allora immaginiamo che i valori di cui voglio fare la somma di quadrati siano questi e quindi quello che farei normalmente è ok mi calco il totale parto da zero por v in values scrivo che total uguale total più v alla seconda v per v e basta alla fine avrò non so un print di total e quindi se eseguo questo qui non ho ancora messo le funzioni è una semplice elaborazione di una lista ho un totale che parte da zero che lo avete qua sotto e ad ogni iterazione la variabile v assume a turno i vari valori il primo valore il cui quadrato fa 100 e viene sommato il totale che fa 100 in sotto poi la seconda iterazione v si sposta sul secondo valore quindi in questa espressione v per v userò 20 per 20 fa 400 più 100 fa 500 poi v si sposta avanti ci sommo 900 qui si sposta avanti ci sommo 1600 e poi ci sommerò 2500 e fa un totale che guarda caso è 5500 ok immaginiamo che queste operazioni somma di quadrati ci salva spesso quando si fa statistica la deviazione standard queste cose qua si basano sempre sulla somma di quadrati e allora possiamo pensare di riusare questo codice all'interno di una funzione definiamo una funzione somma di quadrati che riceve una lista e restituisce la somma dei quadrati e questa funzione itererà normalmente fa la stessa cosa lei riceve un argomento che in questo caso sarà una lista e su questa lista itera for v in valori due punti somma uguale somma più v per v ovviamente devo mettere somma uguale a zero all'inizio se non voglio farmi del male calcola questo valore poiché questo valore serve al programma principale devo restituirlo altrimenti la variabile va persa e quindi il mio programma principale quando ho questi values potrò calcolare la somma dei quadrati semplicemente chiamando la funzione somma dei quadrati total uguale somma dei quadrati di values quindi ho definito una funzione passo come argomento la funzione una lista in questo caso di numeri non importa questa funzione mi restituisce un numero che poi stampo quindi o o qui non è dal punto di vista del programma chiamante è come se avessi scritto len no? n uguale len di numeri serve una lista la passo una funzione e questa funzione mi restituisce un numero fine l'unica differenza è che la funzione l'ho scritta io non ho usato una funzione predefinita questa funzione internamente riceve un argomento la chiama come vuole vedete che qua la variabile si chiama values qua si chiama valori non c'entrano niente sono indipendenti queste variabili ci fa delle cose e poi restituisce un valore che fine fanno però questi numeri questi elementi? eh vediamolo allora prima istruzione crea la lista vabbè la conosciamo seconda istruzione definisce la funzione quello ci siamo detti quando io definisco la funzione che viene messa da parte ma non viene fatto nulla quindi lui si salva da qualche parte che c'è una nuova cosa che è si chiama sum sq somma di quadrati che è una function ma le righe da 5 a 8 non le ho ancora mai viste adesso se io vado nella riga 11 a chiamare la funzione con values values che cos'è values? values è questo quando io nella riga 11 vedo values sto parlando di questa freccia qua il valore che è attualmente associato alla variabile che si chiama values ciò che passa alla funzione non è la variabile values ma è il valore associato alla variabile values la variabile dall'interno della funzione non esiste non è visibile quindi l'altra volta qualcuno mi aveva chiesto ma le funzioni di valore vengono passate by reference o by value nessuna delle due nel senso che la variabile non viene passata by reference viene passato il valore ma questo valore a sua volta è un riferimento all'oggetto quindi funziona in modo diverso quindi se io entro dentro cosa succede? beh abbiamo sappiamo già che quando entro dentro una funzione si apre un nuovo frame si apre un nuovo ambito un nuovo contesto che viene inizializzato con delle variabili che inizialmente corrispondono variabili locali che inizialmente corrispondono all'elenco degli argomenti ricevuti quindi questa funzione ha un argomento che si chiama valori questo valore viene inizializzato è una variabile locale che viene inizializzata automaticamente al valore che è stato passato allora qual è il valore che è stato passato? era questa freccia qui guardate questa freccia qui e infatti la variabile locale valori che è interna alla funzione è a una freccia che punta esattamente a quella di prima qui dall'interno della funzione vedete che queste frecce sono grigie non le posso vedere questi valori dall'interno della funzione dall'interno della funzione ho però una freccia che punta alla stessa lista che nel programma esterno si chiamava values e dentro la funzione si chiama valori è la stessa lista tanto il nome non conta e quindi questa stessa lista la posso iterare il codice aggiunge somma che non avrebbe locale alla funzione e itera sui vari valori esattamente come prima andando a calcolare il valore giusto per somma quindi a un certo punto somma varrà 5500 5500 somma ecco qua la freccia qui le frecce si incrociano un pochino quindi la funzione ha iterato sui valori della lista di partenza non su una copia allora questo meccanismo l'altra volta l'abbiamo chiamato alias quando facciamo z uguale a mi crea un'altra variabile che punta alla stessa lista e voi mi avete guardato strano e dicendo ma perché lo fai e lo faccio perché qui funziona esattamente la stessa cosa per capire come funziona qui quando chiamo una funzione in realtà sto creando il parametro della funzione l'argomento della funzione diventa un alias della lista che gli ho passato e quindi attraverso l'alias posso accedere gli elementi posso eventualmente modificare la lista posso modificare i valori degli elementi della lista perché ho il controllo pieno non posso modificare la variabile valius perché la variabile valius non è mia non la tocco punta a quella lista io posso modificare tutto ciò che c'è dentro il rettangolo giallo il rettangolo giallo è tutto ciò che c'è dentro perché? perché ho un alias un riferimento una freccia che mi dà accesso a questa quando restituisco somma avviene lo stesso meccanismo ma al contrario nel senso che somma adesso è una variabile è un valore scusatemi puntato da una variabile questa variabile sta per scomparire io al programma chiamante non restituisco la variabile somma restituirò un alias della variabile somma ossia un'altra freccia allo stesso numero 5500 infatti l'istruzione di ritorno va a creare un doppione invisibile in un certo senso che il valore di ritorno che viene usato poi nell'istruzione 11 quando la funzione ritorna quindi quando io vado ancora avanti di un passo tutta questa funzione scompare questa freccia scompare ma ovviamente la lista non scompare perché c'è ancora values che se la ricorda questa freccia scompare ma il valore 500 non scompare perché c'è questa freccia che se la ricorda questa v scompare ma il valore 50 non scompare perché c'è ancora questa freccia che se la ricorda e il valore di ritorno è stato usato a questo punto è stato salvato dentro total quindi ho creato una nuova variabile che punta allo stesso non è una copia, è lo stesso se vado avanti e indietro vedete che non si sposta sempre lui, questo 5500 che era stato creato come alias del valore della variabile somma quindi questo meccanismo che abbiamo visto la volta scorsa degli alias serve proprio per passare il valore da un programma alla funzione della funzione al programma, sia in chiamata che in ritorno funziona sempre nello stesso modo non ci sono eccezioni casi particolari sia se passi un numero sia che passi una lista sia che passi una stringa come argomento sia che ritorni un numero una lista o una stringa funziona nello stesso modo questo vuol dire che se io dentro una funzione modifico i valori degli elementi di una lista il programma principale si vedrà cambiati sotto il naso i valori della sua lista che non è la sua è una sola semplicemente la vedo sia da dentro che da fuori quindi esempio questo è un esempio di una funzione che moltiplica i valori di una lista per un certo fattore quindi la mia lista di numeri posso moltiplicare per 3 e quindi anziché 10, 20, 30 saranno 30, 60, 90 dentro la funzione itero attraverso il mio alias itero sulla stessa lista e modifico i valori della lista in questo caso non sto modificando la lista ma i suoi valori va bene ok? vabbè qui fa vedere la stessa cosa che possiamo vedere con Python Tutor lo stesso meccanismo succede se noi restituiamo da una funzione una lista qui c'è un'altra funzioncina che costruisce una lista che contiene i quadrati dei primi numeri interi ok? quindi questa lista contarrà 0 1 4 9 16 25 fino a quando? beh fino all'n che ho deciso quindi questa funzione al contrario di quella che abbiamo visto prima questa funzione riceve in ingresso un numero reale scusami un numero intero n dentro lavora fa cose e costruisce una lista questa lista viene restituita dal chiamante normalmente come un return quindi questo result qua non è più un numero ma è una lista vabbè il programma chiamante quando chiamerà la funzione squares salva sta roba in una variabile e questa variabile farà riferimento a una lista sarà di tipo lista ok? non c'è nulla di particolare nel trattamento delle liste rispetto al trattamento dei numeri l'unica motivo per cui cerchiamo di ragionarci con un po' di dettaglio su questa cosa qua avrei potuto dirvi poi passate ovviamente le liste alle funzioni e ritornarle non capita niente ok? è vero ma dobbiamo essere coscienti del fatto che quello che viene scambiato tra lista e funzione è sempre solo un alias se la funzione non deve modificare la lista va tutto bene è indistinguibile un alias da una copia se la funzione deve modificare la lista allora devo fare attenzione a non perdere quell'alias ve lo faccio vedere ritornando e poi dopo questo esempio ci fermiamo a questa cosa qua che abbiamo fatto prima ok? noi abbiamo una riga che ci permette di fare una cosa che volevamo fare no? immaginiamo che questa cosa qua ci serva spesso allora la vogliamo mettere in una funzione allora fatemi creare un file nuovo che chiamo rimuovi underscore f per ricordarmi che c'è una funzione dentro e quindi definirò una funzione rimuovi che prende una lista di numeri una soglia un valore soglia e restituisce e modifica questi numeri quindi posso scrivere numeri uguale abbiamo appena visto n for n in numeri if n maggiore uguale soglia dobbiamo fare print numeri prima e dopo e vediamo cosa succede ok prendiamo un programma principale in cui ci mettiamo dentro questi nomi ok l'ho chiamato numeri farò stesso dai sono nomi poi li chiamerò nome a questa chiamiamolo qualcosa di non lo voglio chiamare nomi perché parole e quindi anziché n lo chiamo p p per parola ok per coerenza ma ovviamente la funzione funzionerebbe nello stesso modo e allora io posso dire che chiamare la mia funzione nomi uguale rimuovi dalla lista di nomi quelli che hanno lunghezza minore di 4 allora eseguo questo plan grazie e questa è la funzione che fa queste print dice io ho ricevuto una lista di parole che era questa la prima print l'ho ho cancellato quelle che non volevo e quindi vedo solamente le parole rimaste ok proviamo a spostare questi due print nel main nel programma principale abbiamo la prova che la funzione funziona che l'algoritmo della riga 3 è giusto ok eseguiamo il programma no scusate non devo fare nomi uguali la funzione modifica direttamente la variabile quindi non vedete che non c'è nessun return quindi non restituisce nulla però non fa nulla ti aspetta un attimo mi hai detto che la funzione modifica la variabile ok ti ho passato la variabile dentro la funzione i print che abbiamo visto prima mi dimostrano che gli elementi sono stati cancellati e perché la riga 10 mi stampa ancora la lista completa chiediamolo un po' a lui no? non ha messo no non mi cosa ho fatto qua quello che voglio fare è dire ti passo una funzione ti passo una lista e tu me la modifichi ok? e tu l'hai modificata ma poi alla fine io non vedo le modifiche allora proviamo a vedere perché allora ho creato la funzione ho creato la lista di nomi l'ho stampata ma chi se frega vediamo cosa succede adesso rimuovi chiamo la funzione la funzione riceve parole un alias della lista nome ok e poi sono la riga 3 che è l'unica riga che è questa funzione quindi deve essersi qualcosa sbagliato lì no? cosa fa? prende la lista parole cita da sopra costruisce una nuova lista e la assegna alla variabile parole attenzione tutto il problema è qua questo uguale modifica la variabile locale parole la variabile locale parole che punta a questa lista che era quella dell'alias della lista principale adesso punterà a una sua lista questo qua è risultato della comprension perché qui sta lavorando dentro sta facendo vedere cosa succede dentro la comprension ma noi non lo vogliamo vedere abbiamo che parole un attimo fa puntava al primo rettangolo giallo cosa è successo? che la comprension ha creato una nuova lista prima l'abbiamo detto la comprension crea una nuova lista e l'abbiamo fatto opposta perché se modificare la lista era brutto no? ok e poi però assegniamo alla variabile parole il riferimento a questa nuova lista la variabile nomi cioè la lista associata alla variabile nomi non è cambiata è quella di sopra quindi io dentro la funzione ho fatto tante cose ma la lista che ho ricevuto in ingresso non l'ho modificata non solo non posso più modificarla perché adesso dalla funzione se guardate bene non c'è più nessuna lista nessuna freccia che mi punta alla lista vecchia ho perso l'alias ho riassegnato una variabile locale con un nuovo valore e di conseguenza ho perso l'alias che avevo in ingresso quindi tutte le volte che modifico una variabile scindo quella variabile e quella variabile avrà un nuovo valore locale che non è più quello che aveva avuto l'ingresso e quindi da quel momento in avanti tutte le modifiche che faccio le farò sul valore associato alla variabile locale che non è più il valore associato alla variabile esterna tutte le volte che faccio operazioni questo succede soprattutto quando la variabile è un parametro della funzione io ricevo come parametro un alias e l'alias non me lo devo perdere quindi devo evitare in tutti i modi di usare l'uguale su quel parametro se vogliamo il dodicesimo comandamento è non ridefinire un parametro che hai ricevuto in una funzione e allora cosa posso fare? non posso modificare nulla? no puoi modificare la lista puoi modificare i valori della lista non puoi modificare la variabile che fa riferimento a quella lista quindi variabile uguale no o meglio solo se voglio perdere romper l'alias e se voglio modificare i valori senza perdere l'alias queste cose le posso fare tutte posso modificare un singolo valore posso aggiungere un valore perché qui sto modificando la lista che è condivisa non sto modificando la variabile perdendomi la lista vecchia aggiungo in fondo aggiungo l'inizio cancello il primo cancello quello che voglio extend aggiungo posso fare tutti i metodi della lista tutti i metodi che vanno a modificare la lista ma non modificano la variabile funzionano funzionano nel senso che funziona sulla lista di partenza sull'alias della lista di partenza se invece uso per sbaglio un'operazione che crea un nuovo valore perdo alias quindi dovrei riscrivere questa funzione in un modo diverso senza usare l'errore qui è proprio qua usare l'uguale su l'argomento di una funzione allora ci sono due modi di affrontare questo di modificare questa funzione così è sbagliata quindi o modifico l'implementazione di questa funzione cambiando l'algoritmo non usando questa cosa qua della comprehension o usando in modo diverso in modo di essere sicuro di modificare gli elementi della lista e non creare una nuova oppure modifico proprio come funziona la funzione dicendomi anziché modificarmi questa lista restituisci una modificata questo però lo vediamo dopo l'intervallo ok? quindi prendiamoci 15 minuti grazie grazie grazie